Solo la dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C Berlina. C'è grande apprezzione in città per la sentenza attesa per oggi della Cassazione sul ricorso della procura contro il dissequestro della scuola media Enrico Cocchia di Viaturo Cappuccini. Una sentenza che mette in agitazione in primis i genitori degli 800 studenti e poi ovviamente tutto il personale scolastico dirigenziale. Nonostante il Tribunale del Riesame avesse dato disposizione per il dissequestro della struttura di Viaturo Cappuccini lo scorso 28 luglio, la procura ha deciso di utilizzare l'ultimo grado di giustizia, convinta delle sue argomentazioni. Il pool di Cantilmo spinge sui presunti vizi presenti nella formulazione delle motivazioni con le quali il collegio giudicante ha confermato le precedenti decisioni del GIP che consentivano di mantenere aperta la scuola. Secondo la procura i lavori che sono stati effettuati non garantirebbero la sicurezza dei solai, punto focale per il quale la procura dispose il sequestro. Proprio in virtù della sentenza il comune lo scorso gennaio si è costituito in giudizio a parte civile. Lo facciamo a tutela della proprietà, hanno dichiarato durante una seduta di consiglio comunale, nel caso in cui la cassazione dovesse cassare o rinviare in procura il tutto, si rivaluterà ogni aspetto dal punto di vista sostanziale di merito. Ma il dramma resta appeso ad un filo, perché se la cocchia dovesse essere risequestrata si tratterà davvero di un dramma e non solo organizzativo per i genitori dei ragazzi ma per la stessa amministrazione. D'altronde, come il Mancini insegna, in città non ci sono strutture adeguate per accogliere circa 800 studenti della scuola media. Dunque, sullo sfondo dello scenario si legge in maniera chiara la scritta a doppi turni.